Si è parlato di riforma costituzionale delle ragioni del SIA referendum di ottobre nell'incontro organizzato ieri sera a Montori Alvomano dal Comitato Referendum Provinciale di Teramo, hashtag si vota. Nel corso del dibattito sono state approfondite le tematiche relative alla riforma del Senato che passerà dagli oltre 300 componenti attuali ad avere 100 senatori non più espressione diretta del voto dei cittadini. La riforma del Senato è stata voluta dal governo Renzi per dare più voce ai territori che saranno rappresentati anche dai sindaci oltre che dalle regioni, spiegano gli organizzatori. L'abolizione del Senato, o meglio la sua rimodulazione, consentirà anche quello che noi chiediamo da tempo da amministratori locali, il collegamento con il territorio con l'elezione dei sindaci. Per non parlare dell'abolizione del bicameralismo che consentirà di avere una sola Camera dei Deputati, la sola Camera del Parlamento quindi alla Camera dei Deputati, con un'approvazione più rapida e più veloce delle leggi. Con questa votazione noi riusciremo finalmente a portare dei cambiamenti radicali a uno Stato che così diventerebbe più vicino a quelli europei e a quelli che sono nell'ambito europeo e finalmente speriamo l'Italia possa essere uno Stato che sia al passo con i tempi e possa essere snello e più vicino al cittadino.